Mancano pochi giorni alle elezioni amministrative e a Ponte Nure le tre liste in campo promettono battaglia. La lista per Ponte Nure si può fare del sindaco uscente Manola Gruppi si appoggia all'esperienza dei veterani alla guida del paese e aggiunge nuove forze per un rinnovamento politico. La lista Un sogno in comune di Enzo Dotti si basa su quattro punti, non essere razzisti, non essere omofobi, non essere sessisti, essere antifascisti. Ponte Nure per te la lista di Medardo Zanetti si presenta come un gruppo coeso e con differenti esperienze, con idee chiare sul futuro del paese e rappresentativo di diverse categorie. Ci siamo impegnati a fare le cose senza tante chiacchiere. Siamo la squadra del fare. Tra gli interventi previsti la realizzazione di una nuova palestra per la scuola elementare, la ristrutturazione del secondo piano di Villaraggio finanziata per il 70% a fondo perduto dalla regione Emilia-Romagna, il potenziamento del servizio di videosorveglianza, la sistemazione dei marciapiedi della via Emilia e di via Papa Giovanni, il rifacimento dei parchi giochi di piazza Matteotti, Villaraggio e via Dolfini, la riqualificazione degli edifici scolastici e dei centri sportivi. Vogliamo migliorare la viabilità di questo paese che soffre di un problema di smog, di inquinamento e vogliamo farlo con degli interventi molto importanti per quanto riguarda via Garibaldi e la via Emilia ed anche il quartiere di via Capra. Vogliamo migliorare i collegamenti con le frazioni che hanno bisogno di essere rilanciate e di far parte di questo comune veramente e vogliamo far sì che questo paese anche dal punto di vista ambientale ed ecologico sia all'avanguardia. Ponte Nure per te è una lista civica che nasce per garantire il benessere dei cittadini e ponte Nuresi, in particolare attraverso sostegno alle famiglie, sostegno alle famiglie vuol dire garantire loro tutta un'assistenza scolastica, un'assistenza sociale aperta ovviamente a tutti e senza lasciare indietro nessun residente. Questo ovviamente riguarda anche il sostegno ai giovani e agli anziani ma il benessere vuol dire anche sicurezza, quindi vuol dire un paese sicuro con telecamere, con un maggiore controllo dei vigili.